26 dicembre 2015 coppi island thailandia come leonardo di caprio fece nel film the beach passeggiando per questa stradina vi porto a scoprire una delle spiagge più belle del mondo parco naturale il mio sogno che si realizza questa è maya bay tanti anni fa quando guardavo il film lo pensavo dicevo un giorno anch'io andrò lì un giorno anch'io calpesterò questa sabbia e un giorno anch'io realizzerò il mio sogno tra meno di un'ora ci sarà il tramonto e come nel film vedremo il blackton che si illumina e diventa fosforescente maya bay non aspettate mai di credere a questo sabbia non aspettate mai